Grazie Roma, che ci fai ridere e abbracciati ancora. Grazie Roma. E con me Riccardino, il doppio sensista sopraffino, per spiegare questi titoli, no? Riferito a Calderoli, che prima dice Roma ladrona. Ladrona, ladrona. E poi va lì. Con un coso. Con un coso, va lì. E c'ha un attico, perché c'ha un attico? Cos'è un attico? Un attico? Un attico. Un attico? Circolo polare. Circolo popolare, Nicola. Popolare, attico. Artico. No, dove c'è, perché è fredda. È fredda, anche molto fredda, fanno fredda la gente, fa fredda la gente. Oh, bravo. Mentre il ministro Elsa Fornero. Fornera. Van Fabrica. Van Fabrica, Rosani. Che andate a Van Fabrica? Eh, allora, Rosani. A salutare le tute blu. Le tute blu, le grembioli blu. Guarda se ne andate. E gli ha cantato. Blu, 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 blu. Azzurro. Blu, blu. Blu, blu. Blu, blu. Blu, blu. Brava, Rosani, perché erano sbiadite. Sbiadite. Allora, Marcegaglia. Gli ha fatto, lei me ne ha fatto. Blu, blu, blu. Blu, blu. L'acamusso. L'acamusso gli ha fatto. Bella donna, l'acamusso. C'ha quel favo qui. Ma. Eh? Ma, però. Sarebbe, insomma. Discritto. A Ciaccianne. È discritto. Oh, sempre sul nazionale Formigoni ha detto che anche Gesù sbaglia un collaboratore riferito al traditore. Giuda, no? Com'andò all'ultima cena? L'ultima cena? Com'andò? Madi. Dilla loro. L'ultima cena è data, Madi. Ma, Madi. Perché? Non lo so questo. Perché il Signore disse, uno di voi mi tradirà. Io Gesù ci credo, perché io sono cattolico. E infatti Giuda disse, ora sei in com'è, c'è come al solito al sangone. C'era decente in ogni garba Gesù, a me sì. Perché ti garba Gesù? Perché io sono cattolico e voglio rispettare Gesù che faccia la volontà di aiutare le persone che, come la Madonna di Conforto. Tutte queste parole che lui assembla, le potete scozzare, ne prendete una casa da lì. La Madonna di Conforto, spieghiamo, andiamo in tutto il mondo. Cosa fece la Madonna di Conforto? La Madonna di Conforto ha salvato la gente per il terremoto. E anche per fare malattie a delle persone che hanno. Oh, che malattie cura? Come massaggi cardiaci, come tumori alle persone, ragazzi che si fanno male. Senti, per i giraditi c'hai? I giraditi, i giraditi io te lo leggo e te lo aggiusto io per bene, ti metto un cosino la tintura rossa a posto di cotetti. Tintura rossa la triomferà! Tintura rossa la triomferà! Andiamo! Questa è bella. Che ti ti piace? Questa è bella. Io quando canti tintura rossa ti odio. Capito la battuta? Ti odio. Poi se sei un medico cosa non sembra... L'hai capita la battuta? No, cazzo. Non è capito. Allora, visto che ti io odio, non l'hai capita, vediamo, non l'hai capita, non l'hai spiegata. Vediamo se si può titolare in cronaca. Ora, dimmi te, la notizia, un tavolo per il centro. Questa è una chiesa di San Domenico. Ma poi ci vuole un centro per il tavolo. Perché quando c'è il centro per il tavolo dobbiamo andare al mercato, bisogna andare. Esatto, perché le nostre nonne... C'è la fiera, ogni cosa. Le nostre nonne, ti ricordi, quando facevano i centrini, eh? Che poi ti davo le freccine. Sì. Ad Arezzo c'è stato... Ora rischio al pirata. Il processo al pirata. Rischio di perdere il lavoro. Rischio di perdere il lavoro perché sembra che... Pirata, come pirata puzza le bottine. Le bottine, le bottine. E sarangia. Io vorrei fare un complimento agli agenti della stradale di Battifolle che hanno arrestato ancora una volta i due delinquenti. Contra bagnetti. Per le sigarette. Perché molte volte la gente di Battifolle sono state al centro delle polemiche. Vedi, spaccarotella che era al servizio lì. Ma al di là di alcune, purtroppo, cose che sono successe, sono la miglior nucleo di polizia dell'Italia centrale. Quindi, quando la polizia dà l'altra, che si fa? Diamo dei consigli. In questi giorni di ponte, la gente fa il ponte. Fanno il ponte. Però fai il ponte. È 25 di festa. Non fai il ponte. No. Fallo perché con l'acqua che è venuta si fa il ponte. Il ponte all'anno si va. Non si va di là. Il ponte all'anno si va. Si fa il ponte perché le famiglie... Le famiglie. Che fanno? Stanno a casa. Stanno a casa perché non c'è una rina. E allora chi sta a casa può fare il gioco. Il gioco. Delimitazione. Delimitazione. Cosa farai tu? Ah, io da un proposito. Io devo... Ah, devi promuovere. Lui è in tournée. Allora io stasera. Stasera. Ore 21 a Via Bicchieraia. Abbiamo lo spettacolo. Via Bicchieraia ad Arezzo. Noi abbiamo tutto il mondo. A Pietralettino. Tutto. Abbiamo lo spettacolo che si chiama Nicky. Che faccio il secondino. La parte del secondino che faccio scappare nei vaso. Allora. La corruzione totale. Allora. A ore 9 e 4. Al teatro Bicchieraia. Via Bicchieraia. Via Bicchieraia. Eh, non si chiama Via Bicchieraia, la sua vicino al dopo. A Pietralettino. Sì, Pietralettino. Via Bicchieraia. Comunque. A teatro Bicchieraia. E va bene. La compagnia qual è? La compagnia è quella di... Si chiama... La compagnia, mi ricordo si chiama. Si chiama Giovanni. Scusa. Piccolo teatro. Recipi al teatro. È piccolo teatro. Ah, piccolo teatro. Abbiamo una serata alle 9 e il quarto intitolato I Nicky. Che è... Che fa... Il 21 e il 15. Eh, si chiama... Nicky, chi era Nicky? Spiegana a te. Nicky non lo so. Io faccio... Come lo sai? Io faccio un secondino. Chi è che fa Nicky? È mio amico, è un professore di sinnal che fa la parte di Nicky. che faccio i suoi amici e gli faccio evadere la... Nicky era un bandito che rubava ai ricchi per dare ai poveri. Poi rubava ai poveri diventati ricchi per dare ai ricchi. E io faccio la parte del secondino. Diventati poveri. Io faccio la parte del secondino. Il secondino. Io posso fare il terzino? No. Io faccio... È finita i 10 minuti di ballare. Finita. Fai un saluto finito. Arrivederci alla prossima puntata. Si ci sarà. Ci sarà. Ci sarà.